Giuseppe! Mena che è tardi! Muerto almeno! Altri che è pronto il latte! Mena! Mamma io mi sto sentendo la febbre! Avanti fammi sentire la febbre! Beh! Beh c'è cosa? Sta talmente ghiacciato che a me mi viene raffreddito! Io mi raffreddo! Per favore misurami la febbre che ti costa? Avanti tieni misuriamoci la febbre! Annaggiali i muerti dei luvagnoni a prima mattina! Tieni mettitelo sotto il braccio! Tieni mettitelo 5 minuti io mi vengo mi sto andando a lavare eh! Mannaggia 40 gradi! Ho esagerato! Eeeh! Dammi il termometro veloce! Tieni! Minchia! A 40 la tieni! Fermo la non ti muovere! Fermo non ti muovere! Fermo! Girati! Girati! Abbassate le mutande e apri il culetto! Veloce che te lo devo mettere! Come si apre il culetto? E che cosa mi devi mettere? La supposta! Mamma io oggi vado a scuola e mi sto sentendo meglio! Allora tu mi stai prendendo per il culo! Se mi stai prendendo per il culo ti cio di mazzati! Se non mi stai prendendo per il culo ti metto la supposta! Decidi? Che cosa vuoi fare fare? Tanto come papà! La picchi sempre al culo!